ragazza chi facesse piacere iscrizione gratis e campanellina attivate la campanellina personalizzate la vibrazione musichina fate come vi pare insomma va bene uguale ma visto che è gratis un'iscrizione la prendo volentieri diciamo c'è questa bomba dai cile no? Nemia per Sanchez hanno detto Giuseppe ma come l'è possibile cioè all'interno lo sapevano che che aveva questo problema eh ragazzi qualcuno di voi lo sa io ho dei medici in famiglia ho chiesto possibile che gli sia venuta anche nel giro di qualche giorno questa anemia poi dipende dipende da quanto è anemico attenzione e se soprattutto eh eh è anemico come come se ne come se ne sono accorti in Cile cioè eh che succede succede che che sei più stanco che che in in un minor tempo ti affatichi capito che recuperi peggio sono questi i sintomi che magari ha avuto il cacciatore e gli hanno fatto nel Borromo e gli hanno visto e comunque c'ha questo problemino qui eh tachicardia sono questi i sintomi no? Poi dopo eh magari una settimana fa stava bene e ora ha questi sintomi e così dicono dal Cile eh sono sicuri perché comunque mi sembra giocano oltre il Paraguay non lo fanno giocare nemmeno oltre il Paraguay ma il problema che comunque risolvibile non è una cosa grave eh il problema non è diciamo questa perché questa è una cosa che a livello di salute la 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 gestisci la puoi tranquillamente curare ora qualcuno ha detto un po' di ferro e guarisce ora vabbè esageriamo discorso vale discorso è che la parte nera di questo mercato del mercato senza portafoglio che ha fatto l'Inter perché eh l'Inter ha fatto un mercato diciamo senza soldi ha venduto per cento e sono usciti trenta quando ti dicono l'Inter ha incazzato cento e ha speso cento non è vero perché sono tutti pagherò se ti guardi i soldi e sono usciti e entrati non è come ti scrivono sui giornali sono entrati cento ma sono usciti trenta faccio un esempio ora non sto non sto lì a dire eh le 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 cifre giuste e hai preso comunque due di trentacinque anni davanti e quella la cosa più il numero sette che io il numero sette non lo chiamerò nemmeno mai per nome il numero sette della Juve quindi è quella la parte diciamo oscura di questo mercato perché poi ha preso Klasen che è un grandissimo giocatore ripeto io non lo conosco benissimo l'ho visto giocare quattro volte l'ultima volta in Champions contro il Napoli ma riesco a vedere se uno è forte oppure no poi magari lo studio meglio ma Klasen è un grande giocatore ed è qui che potrebbe tornare utile Lassen attenzione perché ti dio questo perché te prendi Sanchez a parte il discorso di questa animia te prendi Sanchez che non sta in piedi te prendi Sanchez che non ha fatto la preparazione e te prendi un Sanchez che ad oggi non ti può dare nulla ma prendi un Sanchez che non ti può dare nulla nemmeno nel prossimo mese dove ci sono ragazzi sette partite in venti giorni e quello è il problema e qui l'allenatore non c'entra nulla qui non puoi scaricare le colpe sull'allenatore qui hai fatto un mercato senza portafoglio e sei stato costretto a prendere Sommer, Quadrado, Arnautovic e Sanchez sono quattro trentacinque anni hai preso quattro giocatori di trentacinque anni e questa è la parte brutta del mercato dell'Inter perché sai ora abbiamo vinto le prime tre le prime tre bel calcio tutte rose e fiori non è tutte rose e fiori perché poi queste operazioni senza soldi ti presentano il conto vedi ora a parte questo problema qua che gli auguro a Sanchez di risolverlo subito ovviamente no ma l'avrei augurato anche a uno del Milano a uno della Juve visto non è una cosa grave ma il problema è che non puoi giocare perché non è in condizione non si legge in piedi ha saltato non fa la preparazione l'ultima partita Sanchez la gioca a giugno siamo a metà settembre quello è il problema stesso discorso ragazzi è per Arnautovic Arnautovic negli ultimi due anni ha tribolato ha avuto problemi a un piedi è stato sei mesi fermo fino a fine giugno girava con le stampelle perché diceva sto andando fuori di testa non mi muovo mi fa male il piede è questo il problema il problema è questo qui quando non hai soldi è questo il problema che ti tocca raccattare un po quello che trovi allora io ti dico hai quattro attaccanti quattro ma puoi contare sempre su due come l'anno scorso ora Arnautovic è andato in nazionale era in panchina poi dopo lo hanno fatto entrare perché la partita si metteva male ma anche Arnautovic è un giocatore che ha bisogno di allenarsi ha bisogno di tanti allenamenti a livello fisico Arnautovic non è messo benissimo è fuori forma anche lui ha un fisico importante ha un peso importante da gestire capito cioè serve tempo ma all'interno c'è tanto tempo servono giocatori pronti e allora ti dici va bene il pentaglio degli attaccanti dell'anno scorso è migliorato ad oggi ti dico di no perché te puoi contare su Turam che purtroppo giocherà titolare ora contro la Francia perché Giroud è tornato a Milano puoi contare su Turam e su Lautaro Martínez fortunatamente sono due ragazzi giovani di 26 anni ma come l'anno scorso per gran parte della stagione è dovuto contare su due attaccanti quest'anno prendendo due di 35 puoi contare ad oggi su questi due poi magari Arnautovic in queste sette partite può entrare nelle rotazioni meno auguro meno auguro e da qui a dieci giorni Arnautovic possa entrare un po' nelle rotazioni ma Sanchez a quanto pare no quindi sei o tre attaccanti allora cosa devi fare c'è un giocatore come Klasen può stare dietro la punta puoi poi giocare con una punta sola e poi dopo sta l'allenatore sopperire a tutte queste mancanze della società che non è stata in grado di dargli un parco attaccanti come si deve perché quando te gli prendi due giocatori di 35 anni cioè cosa gli vuoi dire a Inzaghi qui non c'entra nulla Inzaghi e questo è il punto debole del mercato capito e questo è il punto debole del mercato tutti questi 35 anni e a mio avviso tranne Sommer che comunque ancora un ottimo portiere tra i pali ma non esce occhio Sommer è un ottimo portiere tra i pali ma non esce hai comunque troppa gente ormai che è troppo in là con l'età non va non andava presa sta gente qui te mi dirai Giuseppe non c'erano soldi ho capito putta su un giovane tieniti esposito come quarta punta cosa vai a riprendere Sanchez poi magari Sanchez tra un mese ritorna fa un gol a partita io me lo auguro io sono perdito io esulto eh se fanno gol non è che sto lì a dire no però Sanchez avevo detto che non era a prendere madonna ha fatto gol no ma non puoi prendere 4 35 anni in una sessione di mercato te lo dico dopo tre vittorie attenzione perché poi alla fine queste cose qui questi nodi vengano tutti ai pettini te lo dico subito non esiste a prendere 4 35 anni che Arnautovic ti ripeto bel giocatore sa giocare a calcio personalità grande fisico sono due anni che tribola Arnautovic è stato fermo sei mesi Arnautovic in questi due anni si è allenato poco e male soprattutto perché voleva venire via attenzione questa è gente che è parecchio su con l'età non sono 25 anni che in un mese si rimetterà a posto a questa gente qui serve tempo hanno 300 mila chilometri ci sono sette partite in 20 giorni davanti ad oggi ci sono due certezze Turam e Lautaro Martinez quindi la rosa l'è più ampia ma dove è più ampia? È ampia da tutte le parti all'infuori e davanti perché davanti ad oggi con Arnautovic che sembra si rega in piedi siamo tre siamo tre davanti occhio occhio non si può andare avanti a fare questi mercati occhio basta basta l'Inter non può andare avanti perché ti va bene una volta ti va bene due ti va bene tre te lo dico dopo tre vittorie eh stai attento fatti chiari amicizia lunga te lo dico dopo tre vittorie facile dirlo quando le cose vanno male no io te lo dico quando vanno male quindi speriamo che Sanchez si riprenda speriamo che Arnautovic capisca che non deve sbracciare non deve ma si deve allenare duramente perché ci deve dare una mano gli hanno dato tre milioni hanno hanno investito una vagonata di soldi su un ragazzo che va per i 35 anni io mi auguro che questa gente riesca a darci una mano perché ad oggi l'Inter concludo il video dicendoti ad oggi l'Inter in attacco a due certezze su quattro Lautaro Martinez e Marcus Duramb detto Ticus ciao Inter